Era da oltre un mese che non mi mettevo davanti alla videocamera per girare un video e diciamo che di cose in questo periodo ne sono successe abbiamo sfiorato la terza guerra mondiale c'è questo virus 19 che vaga titoli eccezionali su MyAnimeList hanno prima acquisito la posizione che gli aspettava per poi crollare e perdere drammaticamente posizioni ma un video sul capolavoro di oggi andava fatto era una cosa doverosa e sì avete capito bene ho detto capolavoro perché Copcraft o come direbbero i giapponesi Coppucraft fino all'ultimo mi ha intrigato, interessato, mi ha piacevolmente sorpreso ed ero indeciso se metterlo tra gli anime geniali o gli anime brutti poi ho ripensato un po' a tutti gli alti e bassi che lo hanno riguardato con sì momenti interessanti ma che erano solo una minoranza rispetto alle oscenità a cui sono stato sottoposto un titolo che non consiglierei neanche al mio peggior nemico e allora la scelta è stata facile però devo dire che comunque è il più bel anime brutto che abbia mai visto non fatevi ingannare non è un so bad it's so good cioè non è che questo è così brutto che fai il giro e diventa bello no no questo rimane un cesso però uno di quei cessi, avete presente i cessi giapponesi no? quelli tutti quei comandi vocali, tutti belli con le lucine personalizzabili Coppucraft è un cesso full optional ora dato che comunque Coppcraft è un po' conosciuto ma neanche poi così tanto e che io sia stato uno dei pochi ad averlo concluso col chezzo che me lo guardavo per poi non parlarvene anzi è importante diffondere questi anime di nicchia così sottovalutati, così quasi reclusi chissà perché anche al grande pubblico parlando un attimo seriamente la trama è molto interessante ha un sacco di citazioni che non troverete in nessun altro anime ma la bruttezza e il no sense raggiungono picchi raramente visti e per darvi proprio un esempio pratico di ciò che andremo a vedere ecco qui le vesti grafiche in questo fermo immagine uno dei tanti a cui saremo sottoposti durante la visione dell'anime che è pieno di fermi immagini zoom, dezoom che denotano probabilmente un low budget nel risparmio di animazioni sostituite con interi secondi di queste immagini ferme al centro questo poliziotto che sembra un bambino vestito appunto da poliziotto per carnevale quello a destra che a quanto pare ha appena calpestato una cacca e si lamenta dicendo oh no le mie balenziaga le avevo appena comprate e poi il top del top quello a sinistra anche lui è un bambino o non lo so magari affetto da nanismo chissà che sembra parlare a telefono in maniera abbastanza sospetta neanche se stesse assaggiando oh si dimmi di più su cosa stai indossando pigiamone a pua con unicorni il mio fetish più recondito aiuto mi era mancato youtube basta perdere tempo e iniziamo subito con coppucraft come ci dice l'introduzione presente in ognuno dei 12 episodi manco fosse un battle shonen da oltre 100 puntate che ti dimentichi cosa succede all'improvviso nell'oceano pacifico è apparso un portale che collega il nostro mondo a quello dei semaniani esseri che sono un incrocio tra elfi e fate nel corso dei successivi 15 anni da quando è comparso fino a giungere al presente l'umanità e i semaniani hanno iniziato a convivere nella città di santa teresa dove però alcuni continuano a fare discriminazione e a chiamarli alieni in maniera razziston anche per il fatto che con la loro presenza è aumentata la prostituzione il commercio di armi e udite udite il commercio di fate con la cui pelle e magia si è in grado di creare droghe sintetiche è proprio da una retata infatti per recuperare una fata tenuta praticamente in sala moia che inizia la nostra storia quando uno dei due criminali viene posseduto inizia a parlare il farbani ovvero la lingua dei semaniani e mostra una forza strabiliante mettendo KO l'ispettore protagonista il nostro Kay e facendo un rilassante massaggio al collo al suo collega Rick qui il nostro protagonista si chiede se il suo collega stia bene ma vi confido che ho qualche dubbio in merito avvisata poi la moglie del suo collega con grande tatto e sensibilità fuori dalla norma voilà t'apposto allora senti ho una buona e una cattiva notizia allora la buona è che stasera devi apparecchiare per uno in meno la cattiva è che tuo marito è schiattato è morto è partito è defunto sta a dormire con i pesci ha preso le scale per il cielo è in un posto che per ora non possiamo raggiungere è scomparso lo vedrai in un'altra vita non c'è più state buono Kay viene incaricato di incontrare una nobile semaniana che collaborerà alle indagini per il recupero della fata rapita il suo lunghissimo nome che noi abbrevieremo in Tilarna non motiva comunque il fatto del perché questa ragazza abbia una vagina disegnata sulla fronte ma sorvoliamo visto che sono obbligati a lavorare insieme lui si diverte a farle venire dei mini infarti alla guida della sua mini cooper finché lei però non tira per sbaglio il freno a mano e non rischiano un bel frontale ricordatevi di questa scena perché è l'unica decente per quanto riguarda le sessioni di guida durante l'anime ne vedremo davvero tante e saranno una più orribile dell'altra giunti in un nightclub e fatta fare una figura di pupù al buttafuori conosciamo il prete Nibba uno dei personaggi più inutili e geniali con cui si hanno dialoghi solo di una certa levatura ci viene confermato da Cecil medico legale nonché ex di Kay che sia il tizio che ha eliminato il suo collega che è un altro che ha dovuto far fuori Tilarna erano posseduti e già morti da tempo dopo aver utilizzato la magica polverina creata proprio attraverso le fate Kay e Tilarna continuano a non andare d'accordo parliamo di una zundere aliena e di un ispettore dai modi leggermente rozzi chi stuccai l'hotel se ti cacciano dormi per strada ciao ovviamente lei viene cacciata perché si è rifiutata di consegnare la sua spada ma alla fine Kay si dimostra leggermente umano decidendo di ospitarla per una notte anche se in realtà ovviamente starà a scrocco da lui per tutta la serie che bella taffare cough cough appunto per enfatizzare una battuta ora mi fa sembrare un coronato che bella la vita che bello il 2020 proseguiamo facciamo la conoscenza di un semaniano insopportabile che si professa bello figo e fotomodello e di Zelada il nebromante il biancomante non so come evitare di farmi demonetizzare il video comunque un mago che ha il controllo dei morti o meglio ha il controllo di tutti coloro che sono consumatori della polvere sintetizzata dalle fate per rendere quindi dei fattoni anche persone comuni hanno creato delle bombe che testano proprio su due agenti di polizia che hanno fatto venire apposta il piano consiste quindi nel creare una bomba utilizzandola fatta rapita e di rovesciare il governo americano con questo esercito di oh frate ma che ci spaccamo un drummino? cioè ma c'è da accendere o da accendire? c'avete del fumo? cicileo? oh buona sta roba ci spostiamo al funerale del collega di Kay dove assistiamo alla prima perla qualitativa in fase di guida olè need for speed most wanted non so che cazzo sto vedendo dopo il funerale ed aver appreso della morte dei due agenti Kay doveva avere proprio un gran appetito per andare in un ristorante e sfondarsi di spaghetti e frutti di mare mentre notiamo questa coppia sfocata che si sbaciucchia e ricordatevela perché è un easter egg della serie e la vedremo non so quante volte Tilarna ha un piano geniale lascia il ristorante Kay e con l'aiuto del prete Nibba che corrompe attraverso un prezioso gioiello semaniano regalato dalla madre si veste da battona e tenta di imparare le movenze di una escort d'alta classe facendo raggiungere alla serie livelli qualitativi importanti tutto questo per avvicinare il proprietario del locale il bello figo fotomodello che ovviamente inizia a parlarle si dimostra uno psicolabile incredibile e parte uno scontro scontro però poco incredibile della durata di circa 5 secondi con mani e braccia che saltano senza motivo in ferma immagine fendenti lanciati sulle mutandine di Tilarna che in una posa abbastanza imbarazzante viene subito disarmata e rapita riesce però da sola a liberarsi a colpi di testate e col potere ancora una volta del fermo immagine che ci permette di immaginarci combattimenti intensi, vividi, interessanti proprio l'odore del sangue combattimenti molto più fighi rispetto a quelli che in realtà sono mostrati all'interno dell'anime si scopre che nel covo dove l'hanno portata ci sono centinaia di fate rapite e parte un ulteriore scontro che termina con la morte del semaniano bello figo e fotomodello che decide di preservare la sua dignità e queste sono le sue ultime parole colpo di schiena incredibile si scopre che il capo del distretto di Santa Teresa nonché capo di Key e Tilarna è un traditore che è informato di tutte le indagini il mago Zelada e ammette di aver scelto lui stesso di affiancare a Key Tilarna perché è una nobile semaniale inesperta che l'avrebbe rallentato qui ci sono rimasto male un po' per Tilarna perché ammettono proprio che è un'impedita però pazienza il cattivone spara a Tilarna che cade a terra apparentemente priva di vita e propone a Key di unirsi a lui ma ovviamente rifiuta qui assistiamo a una nuova scena colma di no sense dice a Key che sa che nasconde una pistola all'altezza della caviglia e che se vuole può provare a prenderla e a sparargli cosa succede? Key prende la pistola viene si colpito ma riesce a spararlo uccidendolo grandissimo bravo no veramente eccezionale come te non c'è nessuno bomberone stallone proprio bravo bravo idiota Tilarna è ancora viva perché il proiettile ha colpito la sua spada dopo ulteriori fermi immagini e combattimenti confusionari con al centro di tutto quella che ricordiamo è una bomba alimentata da una semaniana Loli Key affidandosi al suo udito riesce a percepire Zelada ferendolo con la pistola per poi venire attaccato anche da un fendente di Tilarna ma ovviamente Zelada si salva buttandosi giù dal grattacielo e scomparendo perché lui è magico che manco Gandalf quando riesce a fuggire dalla torre di Saruman trasformando una farfallina in una mega aquila ma sorvoliamo Zelada è troppo forte è un pro player è uno smurf sta flexando su di noi si scopre che la fata imprigionata aveva già salvato Tilarna in passato nel mondo dei semaniani e ora decide nuovamente di salvarla e sacrificarsi sia per attivare una potente magia curativa che cura le ferite ricevute da Key che per evitare per colpa sua di attivare questa bomba che avrebbe trasformato in Ippi tutta la popolazione di Santa Teresa sembrerebbe che tutto sia finito con loro che vengono interrogati su quanto accaduto Key che restituisce il gioiello recuperato dal prete Nibba i due che si dicono addio e Key triste che torna al ristorante dove era andato prima con ancora la coppia di ragazzi che continua a limonare ma BAM si ritrova Tilarna a casa con la scusa che non sanno ancora che fine abbia fatto Zelada in poche parole questa ormai sta a scrocco da lui Tilarna diventa anch'essa una detective e iniziano a investigare nuovamente facciamo anche la conoscenza del nuovo capo della polizia un Niggone passatemi il termine che mostra da subito non solo la sua grande affidabilità ma anche quanto è Razzistone cioè un Niggone Razzistone nei confronti di un'aliena Copp Crafto sempre un passo avanti e qui parte una delle varie citazioni di cui vi parlavo a inizio video che devo dire sono simpatiche trovano il corpo di una semaniana mummificata e Cecil la dottoressa ex di Key e Tilarna fanno una sorta di comunella contro di lui bella atmosfera scopriamo che la mummia è in realtà una vampira che si risveglia e inizia a mietere vittime assorbendo la loro energia vitale combattimenti a fallo di cane episodi di discriminazione nei confronti di Tilarna che però attenzione viene difesa dall'ispettore Razziston quindi abbiamo un Razzisception raccolgo le informazioni per scoprire dove si è andata la mummia e interrogano persino la coppia che limona costantemente il ristorante quelle chicche importanti che ti fanno capire che stai guardando decisamente un anime fuori dalla norma proprio da fuori alla normalità però devo dire che l'ho apprezzata in realtà è inutile però ha il suo perché non so qual è però comunque cioè mi sarebbe dispiaciuto se non fosse stato così nonostante essendo così è inutile va bene? no? andiamo avanti abbiamo poi un momento di computer grafica random e orribile per percepire dove è andata la vampira interi momenti di ferma immagine zoom e de zoom finché la vampira prende Kei e lo butta giù facendolo finire in una piscina e non chiedetevi come faccia il corpo di Kei a generare questo tsunami manco pesasse 500 tonnellate Tilarna viene rapita dalla vampira che le fa alcune domande sul loro mondo una sorta di apocalisse preannunciata c'è anche un po' di trama in questo no sense e notiamo che la vampira è sempre circondata da quest'aura nera che dovrebbe sia far capire che ha appunto una sorta di aura malvagia che però viene usata furbamente anche per censurare parti hot del suo corpo devo dire che maestri quelli che hanno pensato una cosa del genere la vampira viene però bersagliata dai poliziotti che a quanto pare hanno scioppato dei visori notturni lei fugge e viene aiutata inaspettatamente dallo stregone Zelada che si è impossessato del corpo di un essere umano e la guida per sfuggire a Kei e Tilarna sperando di aver trovato nella vampira una nuova alleata lei invece è una completa cretina perché si nutre del sangue dell'umano controllato a Zelada che così non può più aiutarla prova a combattere da sola contro Kei e Tilarna ma finendo dopo un combattimento stranamente privo di ferme immagine ma in cui non si è comunque capito niente per essere travolta da un treno anche in questo caso Tilarna ha salvato Kei e dopo che per l'ennesima volta lui non la ringrazia Tilarna prende letteralmente a calci nel culo Kei come è giusto che sia la appoggio pienamente da qui in avanti sembrerà che io elenchi cose a caso situazioni improbabili e improponibili ma vi assicuro che la trama procede a fallo marmorio verso un finale spumeggiante l'episodio 6 dal titolo Need for Speed mostra sessioni di guida non esattamente paragonabili all'omonimo brand e culmina con il ribaltamento di un camion pieno di riviste pop porno da spacciare agli alieni viene chiesto di spostare la mini Cooper di Kei ci pensa Tilarna che non mette il freno a mano e gli distrugge l'auto facendo piombare in un'incredibile depressione il povero ispettore Tilarna poi scopre cosa siano effettivamente questi pornazzi rimane scioccata ma lui per tranquillizzarla le dice che in realtà lei non è nata così ma che è nata dai suoi genitori per scissione come i batteri Madame Messie un'aliena che guardando dei pornazzi di un'altra razza ci definisce barbari e rimane triggerata indignata dallo scoprire com'è nata what a timeline to be alive vediamo poi un agente omosessuale che aiuta Kei a scoprire informazioni sui pornazzi interpretando il ruolo di un cliente etero super eccitato e la cosa gli riesce alla grande per poi però una volta aver completato questa missione da infiltrato proferire una delle più belle frasi nella storia degli anime e l'oscar e l'oscar goes to copcrafto un applauso incredibile è do you want an applause here we are with applausi abbiamo poi una sessione di guida con Cecil per provare a imparare a Tilarna lei tra l'altro confessa di provare dei sentimenti per Kei e dopo pochi minuti di lezioni Cecil deve essere una grandissima insegnante Tilarna ha imparato a guidare meglio di Kei permettendoci di assistere alla miglior sessione di inseguimento in macchina della storia dell'animazione con macchine che hanno vita propria hanno dentro il loro motore una forza entropica incredibile per cosa riescono a fare e a quanto sono instabili and the second Oscar for inseguimento in macchina goes to Coppocrafto riescono a catturare gli spacciatori di pornazzi ma addio anche alla nuova auto di Kei che improvvisamente senza alcun motivo esplode entriamo nell'arco finale di Coppocrafto con Tilarna nuovamente in veste di escort secondo me ormai ci ha preso gusto che incastra un politico semaniano corrotto e perverso con la tipica posa da antagonista malato come i più famosi e iconici Battle Geese di ReZero Sugu di Allfame di Sword Art Online o Drangestein di Adrien venutolo a sapere devo dire che la moglie è molto comprensiva con lui Tilarna fa amicizia con una delle escort catturate nella retata a cui dice in tipico accento semaniano Ocho che ti sta per cadere il televisore che ovviamente poi cade e in parte si danneggia e qui bisogna fare i complimenti ai Bowling Ball ed Emblem che si sono premurati di racchiudere all'interno dei sottotitoli con tanta genialità questa ragazza semaniana è una fotografa e cattura momenti di vita vissuta come un tizio che con un mocio scaccia dei piccioni o un vigile che fa una multa quant'arte abbiamo poi qualche gliccino quella alla guida e per evitare di farsi incastrare il politico sessualmente dipendente contatta la escort con cui ha fatto amicizia per ottenere informazioni anche sugli altri clienti però purtroppo come poteva finire questa situazione con Tilarna che non aveva mai fatto menzione a questa sua nuova amica che fosse una poliziotta la escort purtroppo viene uccisa da un killer assoldato dalla moglie del politico perverso tra l'altro pochi istanti dopo averle regalato una foto che ai miei occhi è orribile e soprattutto morendo incazzata nera con Tilarna per aver scoperto che lei fosse una poliziotta l'episodio 8 mantiene altissima la qualità sin dai primi secondi con Tilarna che affetta un aereo con effetti grafici da tutorial di Sony Vegas il quale prima decolla poi c'è un fascio nero nel cielo che sembra quasi una censura ma non ho capito che cazzo si dovrebbe censurare di questo aereo nell'aere e poi si schianta perdendo vari pezzi senza però procurare alcun tipo di esplosione abbiamo due episodi pressoché inutili ma di un'inutilità incredibile perché per colpa di una mini balestra che è un artefatto magico Tilarna e il gatto di Kay si scambiano di corpo con lui che se ne accorge solo nell'episodio successivo per quanto è sveglio nonostante Tilarna si leccasse un po' dappertutto e il gatto si muovesse con animazioni fisicamente dubbie e per fortuna che poi se ne accorge Cecil che se no Tilarna era bella che spacciata unica cosa rilevante di questi episodi è che Kay va a casa del prete Nib per verificare delle informazioni e si ritrova sul set di una notte da leoni praticamente con gente comatosa per terra ma soprattutto lei ammetto che sto un po' rosica perché avrei voluto esserci anch'io a questa festa quanto meno per la capra satanica con la coroncina però vabbè me ne farò una ragione fortunatamente Tilarna riesce a tornare nel suo corpo ma nessuno avvisa Cecil che per mezza giornata ha pianto pensando di non averla potuta salvare e ha continuato a parlare al gatto essendo convinta che fosse Tilarna eccezionale mentre gli altri anime si perdono con il classico episodio carico di fanservice alle terme o al mare Coppucraft dà un pugno morale a tutti gli altri titoli organizzando una festa piena di bitches in piscina a casa dell'ispettore Razziston abbiamo poi un momento davvero toccante con cui Coppucraft ci spiega il segreto per abbattere qualunque forma di barriera razziale questa scena altro che Oscar fa vincere direttamente a Coppucraft il Nobel per la pace perché è qualcosa di sensazionale parlando di pace prima viene sparato il candidato rivale del politico perverso e poi viene sparato lo stesso politico perverso quindi nessuno sembra capirci più un chezzo su chi sia effettivamente il mandante di questi omicidi la trama si infittisce ma la qualità rimane quella devono inseguire questo killer e Kay devi prendere un'auto ma tra tutte le auto in strada no? come se tu fossi su GTA e devi andare a rubare velocemente un'auto ma perché devi prendere proprio l'auto d'epoca guidata tra l'altro da un signore alquanto strano per avere maggiori informazioni su che ci sia dietro questi attentati le bitches vanno a fare le bitches e a chiedere informazioni ad altre bitches e tra le bitches conosciamo lei questa ragazza a cui manca un dente non c'è niente di sbagliato in questo personaggio non fraintendetemi però non ho capito cioè la scelta di voler mettere un personaggio senza un dente non so se sia un particolare fetish c'è il fetish per il dentino c'è il fetish per la ragazza senza un dente non lo so i giapponesi sono sempre un po' particolari tra l'altro però questo personaggio mi ha fatto venire in mente una riflessione cioè penso che almeno una volta nella vostra vita vi sarete chiesti ma come fossero le waifu senza denti tutti noi ragazzi una volta ci saremo chiesti come fossero i giocatori senza denti scopriamo che anche la moglie del PPM politico perverso morto se la spassava e che addirittura ha organizzato tutto lei compreso l'omicidio del marito e si è assicurata di avere come alleato Zelada lo stregone nebromante biancomante visto circa dieci episodi prima anche se le politiche di entrambi sono abbastanza discordanti visto che Zelada vuole che a tutti i costi i rapporti tra terrestri e semaniani siano ai minimi storici si odino perché ormai secondo lui la cultura i pornazi e persino la musica terrestre si sono diffuse contagiando il loro mondo arriviamo al combattimento col boss finale che io non ho minimamente capito perché lui usa una magia per diventare immune ai colpi fisici ai colpi tangibili e quindi i proiettili non gli fanno niente arriva che prima accende e mette a palla lo stereo e già qui perché cioè tu nel combattimento scorso contro di lui l'avevi percepito proprio grazie al tuo udito invece adesso metti a palla una canzone ti dai un handicap da solo per quanto sei rimbambito non si capisce va bene poi utilizza il sistema antincendio e fin qua ancora ancora lo posso capire perché nonostante sia invisibile le goccioline d'acqua si vanno a posare su di lui zelada diventa visibile ma non si capisce perché quando tilarna prende la pistola di kei e gli spara lui rimane ferito per di più poi quando kei in questo switch da armi tattico molto figo devo dire prende la spada di tilarna e lo decapita lui viene decapitato quindi intangibile what che chezzo di magia aveva fatto prima che è stata completamente inutile cioè è diventato invisibile ed è rimasto nella stanza pensando di essere un camaleonte forse ma non si è capito quale fosse il suo piano finale probabilmente meditava il suicidio da una buona decina di puntate a questa parte e ha fatto finta di farsi sconfiggere perché sennò veramente non c'era modo che potesse perdere anche perché lui poteva controllare i morti e aveva questa specie di Susanoo con queste fiamme devastanti eppure nell'ultimo combattimento buona parte dei colpi li ha lanciati contro il divano senza neanche danneggiare manco il divano e poi è rimasto lì fermo come un imbecille Zelada lo stratega concludiamo Coppucraft con la moglie pazza del politico semaniano che viene arrestata diventa sindaco una sorta di Trump antisemaniano ma che in realtà ha usato questa politica grazie Stone per salire al potere e ora a quanto pare non fa un chiezzo di particolare contro i semaniani Tilarna che decide di voler rimanere nel mondo umano solo perché c'è Kay quindi abbiamo questa sorta di dichiarazione d'amore in diretta per il nostro ispettore Kay un filino razzistone ma che anche lui tiene molto a Tilarna e così finisce Coppucraft un anime un anime molto particolare praticamente impossibile da paragonare a qualunque altro titolo sinceramente piacevole in alcuni momenti scabroso e perfetto per una tortura una bella maratona di Coppucraft per estorcere informazioni confidenziali dai terroristi più allenati a subire torture fisiche psicologiche ma con Coppucraft penso che non ci sia proprio niente da fare non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno visto il video fin qui e che hanno assistito a piena potenza al mio comeback al mio ritorno su YouTube un grazie sincero e di cuore a tutti coloro che mese dopo mese decidono di supportarmi economicamente i miei amati patrons che ringrazio uno a uno di cuore veramente quindi grazie al signore Alessandro Nicola Gannar Maria Max Marcello Federico Corrado Cambio pagina Gabriele Amanda Fordenitz Dux Arianna Sebastiano e Piego il Tempo che non è una minaccia o un mio potere ma è l'ultimo Patreon di oggi noi ci vediamo a breve con lo special anime in poche parole per i 30.000 iscritti in cui annuncerò anche una serie di progetti a cui già ho iniziato a lavorare penso che comprenderà 30 anime più delle battute sui generi vabbè non sto spoilerando ho puntato più alla qualità quindi meno anime rispetto allo special 100 anime in poche parole però più proprio avete capito basta fare così la qualità sono ogni settimana in live su Twitch con reaction anime letture di manga abbiamo visto addirittura un film qualche settimana fa e poi ovviamente League of Legends qui è tutto dal vostro Tsunami Haka Francesco Haka un po' masochistino per vedere questi titoli alla prossima e vi si vuole bene ciao ciao e l'Oscar goes to Coppocrafto